A Belluno il lavoro per l'accordo nazionale sul contratto Occhialeria. Entra a fine mese il primo di una serie di incontri chiave. La contrattazione si svolgerà in associazioni industriali, all'interno della sede dell'associazione industriale. I prossimi incontri sono previsti per il 25 giugno e il 2 di luglio, anche perché c'è un po' di ritardo, quindi stanno cercando anche di muoversi. Si tratta di un'importante occasione per il bellunese, dove sono concentrate la maggior parte delle aziende dell'Occhialeria. Aziende che hanno rilevanza non solo nazionale, ma anche internazionale, a causa delle joint venture che hanno fatto nell'ambito globale, sia con i francesi, sia con gli americani, e con una mole di addetti ai lavori e di personale impiegato molto elevata. A livello nazionale sono circa 17.000 e a livello locale probabilmente sono comunque la maggior parte qui a Belluno.